La dodicesima edizione delle fonti awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Passiamo nella categoria comunicazione e andiamo a premiare il CEO dell'anno comunicazione medico-scientifica. Il premio va a Alessandro Vox, Macro Life Science. Ed eccolo che arriva e quindi noi vediamo di capire il perché di questo premio. Per l'ampia preparazione e professionalità, la passione per il proprio lavoro, l'attenzione per il risultato e gli elevati standard di qualità promossi. CEO dell'anno comunicazione medico-scientifica, Alessandro Vox. Eccolo qua sul palco. Buonasera. A ritirare il nostro award. Ancora complimenti. Complimenti, grazie. Ed eccoci con Alessandro Vox, CEO della Macro, start-up dell'Università di Roma La Sapienza attiva nel settore della comunicazione medico-scientifica. Questa sera, per la seconda volta, vi è stato consegnato un importante premio. Un commento sul riconoscimento ricevuto. Per noi è una grande soddisfazione perché intanto è una conferma, quindi significa che siamo sulla strada giusta. Per il secondo anno siamo riusciti a ottenere un ulteriore traguardo che ci rende orgogliosi. La Macro, come anticipato, è una realtà operativa nel settore medico-scientifico. Ci potrebbe raccontare la storia della vostra azienda e il vostro approccio innovativo? La Macro si occupa nel settore medico-scientifico di tre filoni principali. Il primo, gestiamo dei trial clinici, quindi nuovi protocolli medici, piuttosto che farmaci eseguiamo quello che si fa prima di mettere un farmaco in commercio, un protocollo medico utilizzato nelle strutture ospedaliere. Un secondo filone è quello della comunicazione medico-scientifica e siamo riusciti a comunicare, ritengo a questo punto bene, grazie anche a questi due premi che abbiamo ricevuto, il mondo della ricerca con la comunicazione, ovvero riusciamo a comunicare correttamente i risultati della ricerca, perché la ricerca poi deve essere applicata, utilizzata e per essere compresa deve essere comunicata correttamente sia ai medici che poi ai pazienti. Il terzo filone principale è quello invece della innovazione in senso stretto, sviluppiamo dei progetti di ricerca innovativi, uno su tutti è un progetto su cui stiamo lavorando di realizzare nel 2024 ed è un nuovo concetto di struttura sanitaria, autosufficiente da un punto di vista energetico e dei rifiuti e soprattutto che riesca a coniugare il mondo della cura con le nuove tecnologie innovative della medicina. Quali sono i vostri progetti per la seconda metà dell'anno e per il 2024? Sicuramente vogliamo consolidare quello che abbiamo fatto nel 2023, quindi i nostri risultati e naturalmente ampliare i nostri clienti, aumentare il numero delle società farmaceutiche con le quali lavoriamo. Per il 2024 stiamo spingendo molto per realizzare questo Green Research Hospital che è il nostro progetto di punta e spero che vedrà la luce alla fine del 2024. Dopo molto tempo abbiamo individuato una struttura sul quale poter realizzare questo nuovo progetto e speriamo che possa rappresentare un nuovo modello di sanitario, un nuovo modello di erogazione del servizio sanitario. Speriamo che sia una innovazione veramente che possa cambiare il modo di fare medicina in questo Paese. Grazie a tutti.